Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Mattina in Salute, è tornato a trovarci il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista, bentrovato Lorenzo. Grazie Francesca di avermi invitato di nuovo e grazie ai telespettatori per seguirci anche stamattina. Con questo caldo si pensa all'estate, si pensa alle vacanze, si pensa a tornare in forma, ma ancora prima di pensare alle vacanze cerchiamo un pochino di riprenderci una certa normalità. Normalità che la vediamo sia nella ripresa del lavoro, delle attività quotidiane, dello sport per chi era abituato a fare sport anche all'aria aperta piuttosto che in palestra o in centri e la vediamo anche nella ripresa della sociale, degli appuntamenti piuttosto che... Quindi ti dico, questa ripresa come influisce sull'alimentazione, sulle diete, quindi come l'ambiente influisce sulle diete? Sì, grazie Francesca. Allora, quello che succede e che è successo a me in primis, perché anche da nutrizionista queste situazioni non esulano dalla mia quotidianità, cioè i ritmi di vita più intensi sono tornati anche per me dopo la fase di lockdown che abbiamo vissuto. E questa cosa ovviamente porta, riporta tutte le persone a tornare a una vita più regolare, quindi una vita dove si ritorna a fare tante cose che in questi tre mesi non abbiamo fatto e dunque anche l'alimentazione viene rivista in funzione di questo tipo di situazioni. E ci sono due macrotipi di reazioni in questo senso, perché? Perché c'è chi si è trovato molto bene nello stare a casa e stare a dieta, perché? Perché è molto più facile in questo senso organizzarsi a livello di pasti, a livello di routine alimentare e anche di allenamento eventualmente casalingo. E c'è chi invece ha reagito all'opposto, ovvero preso dall'emotività, da una sensazione magari di noia, anche di un po' di tristezza e ha avuto invece l'effetto opposto. E quindi nel tornare alla vita normale tornano tutti quei problemi eventuali della vita normale, cioè ritornare a lavorare, uscire da casa nel lavoro, ritornare ad allenarsi in palestra, ritornare a fare una vita sociale più accentuata, quindi tornare a fare un aperitivi, cene fuori. E questa cosa chiaramente ha un impatto poi sullo stare a dieta. E quindi tornando alla domanda Francesca, è sull'ambiente alimentare che ci circonda. E questo ha molto a che fare ovviamente con le abitudini, cioè l'alimentazione non è mai solo una questione calorica, lo è in primo impatto a livello di come viene strutturata una dieta, ma diventa la somma di fatto di buone o cattive abitudini che, messe insieme nel giro, nell'arco di una settimana, un mese, sei mesi, danno un risultato finale. Quindi, cosa succede? Bisogna sempre ragionare su costruire e cercare in qualche modo di gestire, controllare quanto più possibile, un ambiente alimentare, a livello di abitudini e di organizzazione anche dell'alimentazione, il più funzionale possibile, nonostante una ripresa anche della socialità e tutto quello che abbiamo detto prima. Anche perché lo abbiamo già detto in alcune occasioni e anche per diverse situazioni, quanto le abitudini sono state rivoluzionate in quei mesi, diciamo, quei mesi difficili di lockdown e come la nostra testa, la nostra quotidianità cambia rapidamente. Cioè ci sembra impossibile fare dei cambiamenti e alla fine ci rendiamo conto che ancora prima di sapere che stiamo abituandoci ad una nuova vita ce ne siamo già abituati, così anche per l'aspetto per quanto riguarda il cibo. Abbiamo detto due reazioni differenti, chi si abbuffava, passami il termine, chi non è mai stato così bravo e non ha mai avuto una linea così perfetta perché magari mangiava a casa, l'attenzione al bicchiere in meno, quindi sicuramente due approcci differenti. Ma una cosa comune a tutti, il ritorno alla normalità o ad una pseudonormalità o comunque la ripresa. E quindi come aiutare le persone che si rivolgono a te e ti dicono, come faccio a cambiare di nuovo queste mie abitudini, come faccio di nuovo a riequilibrarmi a livello lavorativo, a livello di, come dicevamo, anche di attività sportive, piuttosto che di altri aspetti che abbiamo ripreso in mano. Allora, la prima cosa è che, su cui spendo anche del tempo nella fase di anamnesi di un paziente che vuole il mio aiuto, da questo punto di vista, è la gestione della giornata tipo, cioè tutte quelle situazioni in cui diventa complesso poi per questioni legate al dove si è, per esempio un ristorante, il classico pranzo di lavoro fuori, per esempio, o la cena di lavoro, oppure il con chi si è, nel senso che ci sono momenti dove è difficile dire di no nell'ambito di una socialità che esiste tra amici, tra colleghi di lavoro, eccetera, e queste sono, chiaramente, se sono frequenti durante la settimana e se sono, diciamo, non vengono gestite bene, bisogna imparare a gestire queste parti qui. Quindi a fare, in qualche modo, meno danni possibile per mantenersi allineati il più possibile all'alimentazione. È chiaro che non esiste la pretesa di fare al 100% una settimana in maniera super, super, super aderente a un piano alimentare. Questo non lo richiedo mai, salvo non ci sia un atleta professionista o una persona con particolari patologie dove deve assolutamente controllare quello che mangia. Certo, delle esigenze molto specifiche. Delle esigenze speciali, un 1% della popolazione, direi. Quello che richiedo è una media di comportamenti che porti però a un risultato migliore rispetto ai comportamenti precedenti, quindi al punto di partenza. Ovviamente, la prima parte da gestire, quindi, è imparare a gestire cosa, come gestire, come vivere queste situazioni dal punto di vista delle scelte che vengono fatte in location, diciamo, difficili da gestire per quanto riguarda l'alimentazione, come può essere un aperitivo o un ristorante. Ecco, questa è la prima cosa che faccio. La seconda è, che è un secondo livello, se vuoi, di sofisticazione, è quella di provare a indirizzare anche le altre persone a scegliere una location o una situazione più prona all'alimentazione che si sta seguendo. Quindi cercando di condizionare positivamente anche gli altri nel creare un ambiente più sostenibile in questo senso. Perché chiaramente, specialmente se la frequenza di questi eventi è molto alta, è chiaro che diventa complicato poi avere un risultato se si continua a, ovviamente, derogare sulla parte alimentare. Qualche consiglio pratico, Lorenzo? Qualche suggerimento? Facciamo, inventiamoci una settimana tipo. Quindi, qualche, ovviamente, lo ricordiamo, ogni caso a sé, ogni esigenza, come dicevi tu, dallo sportivo, piuttosto che dalla casalinga, piuttosto a chi ha chili in più e chi invece deve mettere qualche chilo in più. Però, se dovessimo guardare allo star bene, all'equilibrio, diamo dei suggerimenti. Come organizzare la settimana? Ok, allora, partiamo dalla giornata, che per dare almeno un'idea generale di come, se non ci sono particolari problematiche, quindi chiaramente è un consiglio generale, io opero per rendere una giornata alimentare sostenibile per una persona. Allora, generalmente una persona che viene da me ha questo tipo di situazione, lavora 8-10 ore al giorno, dalle 8 del mattino alle 7 di sera circa è fuori casa, vuoi per lavoro, vuoi per allenamento, vuoi per qualsiasi altra cosa, e l'unico pasto, oltre alla colazione, che consumo a casa è la cena. Neanche tutti i giorni, questa è la media del mio cliente tipo. Quindi, quello che devo fare è cercare di ottenere il massimo da questo tipo di situazione, che ovviamente non è cambiabile, non posso chiedere a una persona di stare a casa del lavoro per fare la dieta, questo è chiaro. Allora, dalla colazione al tardo pomeriggio, quello che cerco di fare è impostare una giornata con una tendenza a mangiare una quantità di zuccheri medio-bassa e una quantità un pochino più alta di proteine grassi. Questo ha due vantaggi. Il primo, nella giornata lavorativa, consente una stabilità, diciamo, glicemica, e quindi un'energia costante durante il giorno, che consente anche una produttività maggiore nel lavoro. Questa è una cosa di base dell'ottimizzazione della performance mentale. La seconda cosa è più facile da gestire anche in caso di pranzi fuori, per esempio, ristorante, piuttosto che momenti dove non si ha la possibilità di cucinare effettivamente nell'orario di pranzo, sostanzialmente. Perché? Perché è più facile in un ristorante trovare, per esempio, un secondo e un contorno rispetto a mangiare la pasta con pochi grassi, piuttosto che senza sugo. Tutte cose che, nell'atto pratico, poi, magari sembrano cose stupide, potrebbero essere una cosa banale. In realtà fanno molta differenza rispetto poi al risultato della fine del mese. Poi, la sera invece, per questioni anche legate alla chimica cerebrale, cioè a quello che è la fine della giornata di lavoro e quindi la fine della giornata stressante, prediligo un pasto invece più ricco di carboidrati, spesso a base di cereali, per esempio riso, pasta, farro, e invece basso in proteine e grassi. Questo anche per favorire un sonno migliore la notte. Questa cosa ha molto senso poi anche sul recupero dalla giornata che si è avuto e sul ripartire. Poi, questo vale per i giorni sostanzialmente in cui si lavora, quindi dal lunedì al venerdì. Quello che succede poi nel weekend è la gestione dal venerdì sera, diciamo, fino alla domenica sera, di quelle che sono la socialità, i pasti liberi, eventuali gite fuori porta. E questa cosa invece, più che con la dieta, con la dieta che vi ho raccontato prima, ha a che fare invece con la gestione appunto dell'ambiente in cui si trova. Quindi, se si va al ristorante, pranzo e cena, imparare a gestire quanto si mangia, quanto si beve, perché un altro problema è anche la quantità poi di alcolici o bibite che vengono consumati. Poi, come dicevi tu, è stato carino quello che hai detto, hai detto, bisogna anche vedere con chi ti trovi, perché è chiaro che se mi trovo con un amico molto attento all'alimentazione, farò meno fatica. Se ho un'amica che come me magari dice, ma sì, dai, facciamo questo sgarro, piuttosto che non importa, prendiamoci il docetto, beviamo un bicchiere di vino in più, sicuramente ci aiuta meno. È vero, assolutamente, c'è un proverbio che dice la persona che sei è la media delle cinque persone che frequenti di più. E questa cosa è abbastanza vera anche in ambito alimentare, nel senso che, faccio un esempio, nell'ambito per esempio del bodybuilding, da cui io vengo e ho esperienza, non a caso tutti i bodybuilder, che hanno un'alimentazione molto rigida, stretta, si trovano tutti fra di loro. Perché? Perché è l'ambiente più facile per mantenere l'alimentazione che stanno facendo, che è abbastanza complessa. E questa cosa vale anche nell'alimentazione, nelle persone più normali, nel senso che non hanno esigenze atletiche particolari. Nel senso che, ovviamente, circondarsi di persone che tendono a mangiare tanto, piuttosto che, è chiaro che, possono trascinarti nell'avere questo tipo di reazione anche tu. E quindi è ovvio che circondarsi delle persone giuste, anche nella dieta, può favorire un risultato migliore rispetto al rimanere come si è. Hai parlato, scusami, del bere. Ti ho interrotto, poi continuiamo con i preziosi consigli che vorrei dare ai telespettatori. Del bere, è una domanda che faccio spesso, ma la rifaccio anche a te, perché non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Bere il bicchiere di vino, rosso, bianco, superalcolici. Sì, quando, in che quantità? Cioè, cosa preferire e in che quantità? Allora, la teoria dice, la mia teoria, ovviamente, dice di bere il meno possibile se non bere. Detto questo, la pratica è un'altra cosa, nel senso che il problema dello stare a dieta, specialmente a lungo termine, è che una persona deve cambiare certe abitudini. e una persona abituata a avere certi comportamenti anche rispetto all'uso di alcolici, che non vuol dire essere alcoolista, intendiamoci, ma semplicemente... Parliamo, infatti la mia domanda era proprio quello che possiamo fare tutti, cioè il bicchiere a tavola, piuttosto che a cena o a pranzo in compagnia. Esattamente, quindi circoscrivere a un paio di momenti settimanali che possono essere aperitivi piuttosto che cene, un calice di vino rosso non è assolutamente un problema, a patto di chiaramente tenerne conto in un eventuale pasto che viene fatto, quindi magari stando un po' più attenti alle quantità di altri carboidrati che vengono introdotti, chiaramente. Quindi, questo non è un grosso problema. Diventa quando il vino è parte costante e continua dell'alimentazione di una persona, quindi quando una persona consuma due o tre bicchieri ogni pasto, ogni giorno, è chiaro che questi pesano molto sul risultato che verrà ottenuto. Quanto pesano, Lorenzo? Cioè, fanno ingrassare, come è in modo, oppure si localizzano solo in certi punti del corpo? Allora, ci sono due punti su questo che vorrei approfondire velocemente. Il primo è, fanno ingrassare nel senso che sì, contengono calorie, zuccheri e alcol. In particolare l'alcol ha un problema, cioè l'alcol come molecola, oltre a certe dosi, che non sono poi così alte in realtà, cioè si superano facilmente con un aperitivo, per esempio, hanno un'azione anche a livello metabolico di interruzione della lipolisi, quindi del consumo del grasso a scopo energetico. E mettono il corpo in una condizione antitetica, quindi contraria al dimagrimento. E dunque dobbiamo stare attenti a gestire bene le dosi, per quello che i superalcolici tenderei a sconsigliarli a priori, proprio perché è molto facile per la quantità di alcol rispetto alla quantità di liquido bevuto superare queste dosi. La seconda cosa è tenerne conto anche dal punto di vista degli zuccheri, perché per esempio prendiamo un cocktail, uno pensa a un cocktail e pensa solo all'alcol, ma in realtà il cocktail molto spesso contiene anche zucchero, sciroppi, per dare il gusto a livello, per esempio del frutto, del gusto fruttato che ha, e questa cosa chiaramente ha un impatto anch'essa sia sull'energia totale introdotta, quindi sulle chilocalorie, ma soprattutto anche sulla quantità di zucchero introdotta in un pasto. Ed è per quello che prima accennavo rispetto al vino, che comunque contiene una quantità molto esigua di zuccheri e alcol, di comunque tenerne conto, stando un pochino più indietro nelle quantità rispetto a pane, pasta, piuttosto che altri carboidrati che vengono introdotti con l'alimentazione. Quindi cercare comunque di equilibrare in questo senso, ma è meglio esagerare un giorno oppure fare piccoli sgarri tutti i giorni? Allora, esagerare un giorno intero è un problema perché è il 15% di una settimana, è tanto. Quindi un giorno libero di solito nei miei piani non è previsto. Anche perché se quello che nell'alimentazione ricerchi è aspettare il giorno, la domenica libera, il sabato libero, tutto un giorno, significa che la dieta che stai facendo è veramente oppressiva, cioè non si può vivere una dieta in maniera da avere la libertà un giorno, a settimana, a stare oppressi gli altri sei. Anche perché come fare, se no portarla avanti, quello che dicevamo poi nella puntata precedente, quando sei venuto a trovarci mesi fa, come fai a sostenerla se non trovi anche all'interno di questa un equilibrio, un piacere, un cambio di mentalità? Bravissima, bravissima. Questo ovviamente poi parlo sempre in maniera generale, però questa cosa è assolutamente vera perché il mio obiettivo non è farti ottenere solo un dimagrimento piuttosto che un risultato estetico, è assolutamente portarti a mantenerlo. E se la pressione su di te, della dieta, è così forte da chiederti un giorno libero completo dove dai sfogo a quelle che sono le, diciamo, come dire, la tensione che hai accumulato dai sei giorni precedenti, non stiamo facendo un buon lavoro secondo me. Ecco, questa è un po' l'idea. Ed è un problema specialmente delle diete cosiddette crash, quindi le diete dove si cerca di perdere velocemente peso stando molto molto stretti con le calorie, con le quote di energia quindi che introduci, saltando pasti, insomma, di solito questa cosa è tipica di questo tipo di approcci. Nel mio caso invece utilizzo uno o due pasti liberi a settimana. Che cosa vuol dire? Che sono un evento nel weekend, un evento in settimana dove il pasto può essere considerato libero, ovviamente in autogestione rispetto alle quantità, senza farlo diventare una gara a quanto riesci a mangiare, ovviamente. Mentre lo sgarro quotidiano, seppur piccolo, è assolutamente sconsigliato, quindi meglio un pranzo, due pranzi, una cena, due cene, libere, e sappiamo che sono cene libere, piuttosto che il biscottino in più, il cioccolatino in più, il bicchiere in più, se non è nel mio, diciamo, regime alimentare. Esatto, esatto Francesca, perché questo? Perché mi serve anche nel contempo, anche se non è una cosa che si comunica chiaramente alla persona, ma che la persona pratichi delle nuove abitudini in maniera costante, quindi ho bisogno di una certa continuità e piccoli errori quotidiani interferiscono col processo della creazione di nuove abitudini. Passo avanti, due passi indietro. Esatto, e quindi le abitudini non si cancellano, si sovrascrivono, quindi sovrascrivi la precedente praticando un'abitudine nuova invece di praticare la vecchia, quindi ho bisogno di tempo sufficiente per praticare questa cosa e se continua ad essere interrotto quotidianamente questo processo, non ottengo poi nei mesi successivi la capacità di gestire il mantenimento. In un minuto, quindi, riassumendo qualche linea guida per questi mesi, perché poi entriamo nello specifico di alcune diete, però se dovessimo generalizzare, dare quello che stavi dicendo adesso, precedentemente che ti ho interrotto per approfondire l'argomento alcol e pasti liberi, in un minuto consigli Flash da tenere, veramente preziosi da tenere in considerazione. Sì, allora, il primo, abbiamo detto, se hai bisogno di un giorno libero, la settimana libero, non va bene e stai facendo una dieta sbagliata, quindi rivedi i sei giorni precedenti di dieta che stai facendo. Il secondo, organizza un ambiente potenziante rispetto a quello che stai facendo, gestendo sia le persone, sia i luoghi in cui consumi i pasti, affinché possano diventare un fattore positivo sull'alimentazione e non un limite all'ottenimento del tuo risultato. E tre, gestisci la tua giornata tipo in una maniera in cui riesci a gestire con piccole, con quote medio-basse di carboidrati e alte in proteine grassi, la giornata quotidiana lavorativa, e poi, per gestire meglio il riposo serale e il recupero, aumenta le quote di carboidrati la sera per ottenere quel risultato che voglio ottenere. Se ne sente parlare spessissimo in questo periodo dieta chetogenica, che cos'è? Dieta chetogenica, addirittura leggevo un articolo su internet l'altro giorno e la parola cheto è la seconda parola più cliccata su Google nell'ambito diete, quindi è qualcosa di estremamente attuale l'argomento. Dieta chetogenica è un'alimentazione cosiddetta anche mima digiuno, infatti dieta chetogenica simula quelle condizioni interne dell'organismo che sono tipiche di un momento dove l'organismo percepisce il digiuno, quindi non vengono consumati alimenti. E cosa vuol dire questo? Che, come dice la parola chetogenica, questa dieta mira a utilizzare i chetoni a scopo energetico in alternativa allo zucchero, al glucosio, che noi abbiamo fisiologicamente nel nostro sangue e supplisce alle nostre esigenze energetiche. Questa dieta come, su cosa si basa? Si basa sul principio di utilizzare piccolissime quote di carboidrati per non avere un'assunzione di zucchero, in questo caso elevata. Medio-basse quote di proteine, quindi una quantità fisiologica di mantenimento del tessuto muscolare e la restante parte delle calorie previste durante il giorno, perché non è per forza una dieta ipocalorica, vengono fatte dai grassi, quindi da assunzioni abbastanza alte di grassi che vengono utilizzati poi per produrre i chetoni. Questa cosa è, questa alimentazione, perché mi mal digiuno? Perché anche nel digiuno vengono prodotti questi chetoni che hanno un effetto poi anche, non solo energetico, ma hanno anche un effetto su alcune dinamiche dell'organismo. Per esempio, i chetoni migliorano la concentrazione a livello cerebrale, la capacità di focus, di concentrazione e di performance elaborativa del cervello, per esempio. Hanno un effetto, diciamo, se gestita bene l'alimentazione, può essere un'alimentazione buona per il dimagrimento. Può essere un'alimentazione ottima in ambito di supporto a certe patologie, come per esempio l'epilessia. È un'alimentazione molto importante per chi soffre, per esempio, di crisi epilettiche. E i chetoni, in alternativa al glucosio, sembrano in alcuni tipi di epilessia controllare la frequenza e l'intensità degli attacchi epilettici. Quindi funzionano molto bene, quasi a livello farmacologico. Quindi è un'alimentazione molto, molto in voga su questo tipo di tematica. Molto interessante anche per la, diciamo, la riduzione della frequenza e dell'intensità degli attacchi di emicrania, che è un altro problema molto, molto sentito nella popolazione. Molte persone soffrono di emicrania quotidiana o comunque frequentemente durante il mese. Questa alimentazione può essere di supporto a questo tipo di lavoro. Per noi che non ne sappiamo molto, tu hai spiegato benissimo cosa si intende per dieta chetogenica, cosa serve e sembra di capire che sia davvero un aiuto per certe patologie. Ma in termini pratici, dove troviamo tutto questo? Come ci dobbiamo organizzare? I tempi, se ci sono dei tempi consigliati. Cioè cerchiamo di illustrare cosa si intende per dieta chetogenica, in che modo devo seguirla affinché mi dia questi benefici per l'epilessia, piuttosto che l'emicrania, la concentrazione. Insomma, sembra che abbia davvero dia dei risultati ottimi per affrontare queste patologie. Sì, a patto che venga mantenuta costantemente questa chetosi che viene indotta dalla dieta. Ma la chetosi, scusami Lorenzo, che poi ci spieghi in termini pratici cosa consiste questa dieta. Fa bene, fa male? Sai che tante volte, soprattutto quando si parlava di diete iperproteiche, che ti fanno dimagrire subito, velocemente, come era la dieta Ducano una volta, dicevano i primi sette giorni vai in chetosi. Cosa significa andare in chetosi? E anche il corpo, l'alito, una serie di cose non sempre ne beneficiano, perché, giusto? È così? Adesso vi faccio delle domande che sono certa che si stanno anche chiedendo a casa. È vero, perché effettivamente sull'alito non c'è un gran beneficio, anzi, effettivamente la chetosi porta un sapore dolciastro in bocca, questo tipico aroma da acetone, che è uno dei chetoni, per esempio, infatti. Su tutto il resto, allora, la dieta Ducan non era una dieta chetogenica, è una dieta iperproteica, quindi dalle proteine, perché dicevo prima che devono stare in quantità abbastanza ridotte, dalle proteine si può produrre zucchero. Questa cosa, quindi, se si consumano troppe proteine, comunque si produce zucchero e i chetoni non vengono prodotti, quindi non è una dieta chetogenica. La dieta chetogenica, quindi, cosa vuol dire? Dobbiamo mantenere un certo grado di chetoni nel sangue. Noi creiamo una chetosi, però, per non fare confusione, fisiologica, cioè esistono due tipi di chetosi. La chetosi fisiologica, che è quella che induciamo con la dieta chetogenica, quindi con quantitativi medio-bassi di chetoni nel sangue costanti. Esiste invece la chetoacidosi, che è quella che spaventa anche tanti medici che fanno confusione. Perché? Perché la chetoacidosi è quella tipica che si trova nel diabete 1, per esempio, nel diabete 1, dove hai glicemia altissima, quindi molto zucchero e molti chetoni prodotti in contemporanea. E questo crea effettivamente problematiche di salute. E quindi non dobbiamo mai arrivare a questa situazione, ma un corpo sano non arriva a questo tipo di situazione praticamente mai. Per capirci, per fare un paragone, la chetoacidosi e la chetosi, se paragoniamo entrambe come un fuoco, la chetosi è un fuoco in un camietto di casa, la chetoacidosi è la casa che va in fiamme, per capirci. Quindi stiamo parlando di due cose molto diverse, anche se di fuoco si tratta, ok? Detto questo, come monitoriamo la chetosi? Perché questo in realtà è il punto più importante di questa dieta, perché dobbiamo essere sicuri di mantenerci in chetosi rispetto a quello che mangiamo. Lo si fa in due modi. Abbiamo o le striscette per le urine, e questa cosa, quindi lo si monitora attraverso la quantità di chetoni presenti nelle urine. Le vendono in farmacia, sono le striscette che si usano anche per il pH delle urine, e monitorano anche i chetoni. E se vediamo che nelle urine ci sono chetoni, vuol dire che siamo in chetosi. La seconda cosa, ci sono dei sensori come i glucometri, quindi attraverso una piccola punturina del dito si ottiene un valore dei chetoni del sangue. Ovviamente questo è preferibile per monitorarlo, perché è più preciso come dato, però chiaramente dobbiamo, è un impegno in più chiaramente da dover fare. Perché il problema della chetogenica è che è complessa, sia dal punto di vista della gestione, perché ci sono una serie di parametri come questo che vanno monitorati, sia dal punto di vista dell'alimentazione, perché sembra una cosa bella mangiare molti grassi, ma mangiare molti grassi e poche proteine e carboidrati non è così semplice come sembra. Quindi è il bilanciamento che crea molta difficoltà. È molto complesso perché non è così semplice trovare alimenti che contengano poche proteine e molti grassi e anche pochi carboidrati nel contempo. Quindi dobbiamo utilizzare, facciamo un esempio classico, per esempio la colazione tipica di una dieta chetogenica è per esempio uova, uova intere, quindi con anche il tuorlo, può esserci un pochino di pancetta, per esempio, la classica colazione bacon and eggs inglese, e dell'avocado, che è un frutto per esempio grasso, quindi che ha una sua funzione, e non possiamo mangiare altro, quindi niente fette biscottate, piuttosto che brioche, succo di frutta, perché? Perché contiene zucchero e quindi ci fa uscire da quella traiettoria che vogliamo indurre a livello metabolico. Dunque è una dieta particolarmente complessa, soprattutto in momenti anche qui di socialità. Per esempio andiamo al ristorante, cosa ordiniamo? Dobbiamo andare e qui a maggior ragione essere molto attenti al ristorante che scegliamo, perché dobbiamo essere sicuri di poter mangiare un piccolo secondo, di mangiare una piccola porzione di verdura insalata, piuttosto che finocchi, cetrioli, che contengono pochi carboidrati, e usare, per esempio, un bel po' di olio, o piuttosto che portarsi un po' di frutta secca da mangiare in abbinamento, perché dobbiamo essere sempre sicuri di avere una quota di grassi sufficiente a dare il risultato che dobbiamo ottenere. Infatti sono nati molti prodotti, come prodotti, diciamo, pasti sostitutivi, piuttosto che per mantenersi in chetosi. Perché? Perché nasce questo dall'esigenza proprio pratica del seguire questa dieta nonostante la difficoltà organizzativa. Infatti non è, secondo me, la dieta migliore in assoluto per il dimagrimento, non perché non funzioni, ma perché è complessa rispetto al risultato, quindi si può ottenere lo stesso risultato con altre strategie. È molto invece interessante per chi soffre di quelle patologie di cui vi dicevo prima, epilessia, emicrania, diabete di tipo 1, obesità grave, che in questo caso diventa patologica. In questo caso può essere molto interessante, quindi lo sforzo della gestione vale il prezzo. Bravissima, il risultato, il costo beneficio. La salute, quindi non tanto per il dimagrimento, che possiamo raggiungerlo con altre strategie, ma quanto per chi soffre di alcune patologie. Esatto. Può essere un aiuto veramente concreto. Del resto l'alimentazione, l'abbiamo detto più volte, gioca un ruolo fondamentale in tantissime situazioni, in tantissime patologie. E aggiungo un'ultima cosa, perché può essere interessante. La dieta ghetogenica viene anche utilizzata per migliorare la performance mentale. Come vi dicevo prima, aiuta a concentrazione, al mantenimento di livelli energetici stabili. E infatti è diventata famosa negli ultimi anni perché nella Silicon Valley, dove viene richiesto una performance per tante ore mentale importante, da parte di ingegneri, programmatori, un grande fermento da questo punto di vista, è diventata la dieta, diciamo, d'adozione per questo tipo di persone. Proprio perché notano un incremento della loro produttività. Quindi, per esempio, se una persona mi dovesse chiedere questo tipo di miglioramento, lavorativo piuttosto che, può essere una dieta che è interessante da utilizzare anche per questo tipo di funzione. Posso chiederti una giornata tipo, per chi fa una dieta ghetogenica, quindi una giornata tipo, qualche consiglio, cosa si mangia a colazione, cosa si mangia a pranzo, cosa cena, magari la più semplice ovviamente, per capire un pochino. Vi faccio la mia, guarda, vi faccio la mia che sono stato in ghetosi tanto tempo, quindi ho una buona... E poi, scusami, tanto tempo cosa significa? Nel senso che poi devi farla e poi sospenderla? Io l'ho fatta per un periodo per vedere, prima cosa, provarla su di me. Tutto quello che predico, di solito, lo provo prima, quindi per vedere anche i nodi, magari difficili, a livello appunto pratico, prima di suggerirgli a una persona o a livello... Però una persona può stare in dieta ghetogenica sempre, oppure le consigli sei mesi, un anno, dopo si sospende, dopo si riprende, qual è il tuo suggerimento da questo punto di vista? Allora, dal punto di vista scientifico non abbiamo studi a lungo termine, cioè 35, 40 anni, 50 anni, di dieta ghetogenica costante, quindi non abbiamo delle sicurezze da questo punto di vista. Se una persona ha una patologia di cui vi parlavo prima, consiglio di starci costantemente, perché il costo-beneficio è assolutamente importante. Da monitorare nel tempo alcuni parametri che per esempio, come per esempio la densità ossea piuttosto che i parametri metabolici, perché mangiando molti grassi bisogna tenere sotto controllo anche eventualmente il colesterolo, i trigliceridi e tutti questi fattori qui. Nonostante generalmente si normalizzano e non hanno grossi oscillazioni, però è bene controlarle. Bisogna controllare gli elettroliti, quindi sodio, potassio, eccetera. Lo stato di idratazione, che è anche un'altra cosa che tende a perdere, tende a perdere molta acqua con questo tipo di diete, quindi bisogna tendersi ben idratati. Detto questo, la dieta chetogenica, io l'ho provata sia per il dimagrimento sia per questo discorso della performance, ci sono stato a cicli di 3-4 mesi in maniera costante. Una volta che mi sono fatto questo adattamento alla chetosi, che dura 3-4 giorni, ci si può stare abbastanza serenamente. Il punto è organizzarsi la giornata. Allora, capiamo la tua giornata. Esatto, la mia giornata era così. avendo una giornata anche piuttosto complessa dal punto di vista organizzativo del mio lavoro, ho scelto di abbinarla al digiuno intermittente, quello di cui vi parlavo la volta scorsa. Quindi a mantenere una finestra di ore di digiuno completo, che è chetogenico per definizione il digiuno, per quello che dite chetogeniche si chiama mima digiuno, perché mima appunto gli stessi effetti, quindi sono complementari le due cose. E quindi fino al sostanzialmente alle 2 di pomeriggio tenevo un digiuno, quindi bevo delle tisane, acqua e limone, ma non mangiavo nulla a livello solido. Poi, come pranzo, quello che facevo era gestire una piccola quota proteica, per esempio 150 grammi di tonno, un piccolo contorno, quindi un pochino di insalata, 150 grammi di insalata, 200 grammi di cetrioli, di finocchi, più molto olio e frutta secca e poi mangiavo a cena, più o meno la stessa cosa, quindi con ancora un secondo o un contorno, magari un pochino d'avocado che era anche buono e in questo caso mi gestivo in questa maniera, monitorando due volte al giorno lo stato di chetosi attraverso quell'attrezzo di cui vi parlavo per monitorarlo dal sangue. Perché lo chiedi controllato? Perché se dovessero esserci dei valori che non vanno bene dobbiamo porre delle modifiche o semplicemente per la funzionalità della dieta? Cioè qual è l'obiettivo della valutazione? L'obiettivo è valutare se si è in chetosi, quindi se abbiamo chetoni nel sangue e se la chetosi a che livello è? Perché posso avere pochi chetoni, medio chetoni, alti chetoni e questa cosa la si vede proprio con questo attrezzino o con le urine, con la stricette per le urine. Posso avere una chetosi troppo profonda quindi sto mangiando troppo pochi carboidrati e proteine e allora il giorno dopo posso mangiare qualcosina in più. Invece se la chetosi è lieve o assente sto mangiando troppi carboidrati e proteine quindi devo o alzare la quota di grassi nella giornata oppure diminuire in base al tipo di obiettivo che ho. Se è il dimagrimento posso diminuire se il mantenimento della mia efficienza psicofisica posso aumentare le quote caloriche quindi aumentare la quota di grassi. In questo senso mantenendo un rapporto di grassi rispetto a proteine e carboidrati piuttosto sbilanciato verso i grassi sono abbastanza sicuro di ritornare rapidamente in chetosi. Questo è il motivo per cui bisogna monitorarsi perché quello che vedo spessissimo l'errore più grosso delle diete chetogeniche è pensare di mangiare molte proteine pochi carboidrati e grassi e infatti non si è mai in chetosi perché? Perché le proteine il corpo messo sotto pressione da alti carichi di proteine produce molto efficientemente glucosio, zucchero e quindi evita di produrre chetoni. Quindi quello che ci hai quella che ci hai illustrato precedentemente era la tua giornata tipo? Sì, una giornata. E al posto del tonno ad esempio che secondi preferire? Per esempio preferire carni anche grasse in questo senso perché i grassi sono un vantaggio per esempio la carne rossa per esempio il pesce azzurro salmone sgombro che sono ricchi di grassi tra l'altro grassi importanti anche per la salute come gli omega 3 piuttosto che delle uova uova intere anche esse perché avendo il tuorlo siamo sicuri di assumere anche qui dei grassi a sufficienza in questo senso i grassi vengono in maniera vengono metabolizzati in maniera molto efficiente quindi anche se può sembrare paradossale non si ingrassa mangiando grassi perché il corpo li usa come il fuoco usa il legno quindi sostanzialmente vengono bruciati in maniera molto efficiente vengono consumati in maniera molto efficiente quindi paradossalmente si perde grasso mangiando tanti grassi quindi è un un indirizzo al nostro metabolismo che induciamo e forziamo proprio per diventare molto efficienti un no forte chiaro a che alimenti quindi per chi segue questa dieta hai carboidrati cereali cereali legumi anche i legumi no frutta va gestita in quantità molto molto piccole piuttosto che verdure zuccherine come i pomodori carote le carote le patate per esempio molto bene esattamente insomma e tutte queste situazioni tutte queste queste verdure vanno sempre gestite molto molto bene nelle quantità le bibite zero bibite zero si possono utilizzare si possono utilizzare in dieta ketogenica l'unico punto è stare attenti a come gestisce l'intestino le bibite zero perché possono dare noia a livello intestinale con attacchi di disenteria ci sono persone che sono sensibili ai dolcificanti e possono dare questo tipo di problemi caffè caffè si può usare senza zucchero e senza zucchero certamente quindi riassumendo adesso che siamo in chiusura no carboidrati no zuccheri no cereali no legumi ecco che questo forse lo sottolineare perché a volte si pensa che ma no perché non perché facciano male attenzione ma perché stiamo parlando della dieta che la dieta ketogenica si si assolutamente quindi è un riassunto per quanto riguarda la dieta ketogenica e non per gli altri preziosi consigli che avevamo già dato con altre diete preferire i grassi certi alimenti che ci hai consigliato quindi pesce azzurro carni grasse grasse nel senso che rosse sì rosse quindi non per forza carni bianche con poche quantità di grassi ma anche carni che paradossalmente possono sembrare meno dietetiche perché appunto un po' più ricche di grasso come filetto scamone piuttosto che salmone può andare bene per pensare ai pesci perché mi immagino un pesce del tonno abbiamo detto assolutamente tonno verdure light cioè non zuccherine quindi insalata finocchi zucchine esattamente e un altro errore che si fa spesso è di mangiare alimenti che comunque non sono alimenti sani perché uno può dire allora mangio le salsicce allora mangio il cotechino che sono molto grassi sì però stiamo sempre parlando di mantenersi anche in uno stato di salute ottimale quindi non dobbiamo per forza di cose mangiare sovraccaricare il nostro colesterolo o comunque il nostro organismo di alimenti che non vanno assolutamente bene latte latticini si possono usare formaggi stagionati formaggi freschi no perché anche questi contengono un po' di carboidrati a cui bisogna stare attenti perché con il lattosio evidentemente quella sera che si esce a cena cosa succede? quella sera che si esce a cena è bene non uscire a cena non uscire dalla chetosi quando si è a cena quindi bisogna mantenersi comunque in uno stato di chetosi e quindi non consumare alimenti come la pizza piuttosto che bere l'aperitivo perché se no che scordiamoci il vino immagino e sì e bisogna stare molto attenti un mezzo bicchiere può essere tollerato se non vengono assunti altri carboidrati e altre proteine nello stesso pasto però va molto 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 centellinato dal punto di vista delle quantità sicuramente c'è altro che vogliamo aggiungere o credi che abbiamo dato le indicazioni necessarie per avere almeno un'idea di cosa si intende davvero per dieta chetogenica? direi che abbiamo dato le sufficienti indicazioni di base ricordiamo che sono consigliate per la concentrazione per il miglioramento della performance mentale per alcune patologie specifiche come l'epilessia come l'emicrania come il diabete di tipo 1 o l'obesità grave chi non deve assolutamente ricorrere alla dieta chetogenica? ecco questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso cioè a chi proprio è sconsigliata? perché ci sono delle patologie per cui è meglio dire no non provarci neppure? allora no se viene fatta in maniera cosciente quindi non autodidatta non ci sono patologie particolari in cui assolutamente no bisogna essere però seguiti bene quando c'è una patologia in corso questo è sicuramente vero no al fai da te esattamente in ogni situazione soprattutto con diete così complesse perché sono diete complesse sia nella sia perché è difficile capirle è difficile seguirle è difficile anche capire come il nostro corpo risponde e anche non dico non in assoluto ma anche a chi dice voglio dimagrire con questa dieta direi prima prova preferiamone altre prova ne altre anche perché lo sconforto immagino che con questa dieta sia dietro l'angolo se lo fa uno solo per dieta e non per proprio un cambio di prospettiva diciamo alimentare sì un altro l'ultima cosa che vorrei aggiungere l'unico problemino che si può avere con la chetogenica è a livello intestinale perché? perché mangiando pochissime fibre ci possono essere diciamo rallentamenti del transito intestinale in quel caso può essere interessante utilizzare in questo caso degli integratori di fibre questo è uno dei diciamo dei limiti della dieta chetogenica quindi degli punti a sfavore e in questo caso bisogna agire non è capita a tutti però molto spesso capita questa cosa può essere una diciamo una controindicazione un po' di stitichezza Lorenzo vuoi ricordare i telespettatori i tuoi contatti? certo mi trovate sul mio sito web www.lorenzovieri.com oppure sulla mia pagina facebook che è Lorenzo Vieri e se potete mettere like alla mia pagina dove ogni giorno pubblico contenuti su questo tipo di tematiche grazie per essere stato con noi noi ci interrompiamo per qualche secondo qualche minutino e poi torniamo con la seconda parte di mattina in salute a tra poco e poi torniamo con la seconda parte a tra poco a tra poco